buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone e questo è il secondo video sull'Argentina o meglio sulla storia dell'Argentina eh perché eh sto eh cercando di dar conto della lettura di due libri il primo è eh Loris Zanatta storia dell'America Latina contemporanea edito eh dalla terza libro del duemiladieci ampliato nel duemiladiciassette e il secondo De Giuseppe e Labella storia dell'America Latina contemporanea il titolo lo stesso il libro del duemiladiciannove edito dal Mulino Zanatta e professore eh di ehm storia dell'America Latina all'Università di Bologna e eh De Giuseppe e Labella eh sono anch'essi professori universitari di storia contemporanea il perché questo interesse per l'Argentina intanto per l'argomento in sé per l'importanza in sé dell'Argentina soprattutto dal punto di vista culturale questo è un canale che si occupa eh di letteratura di narrativa principalmente è insomma la storia dell'Argentina in questo settore eh non è una 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 storia di di cui si possa fare a meno eh e poi per in in realtà l'occasione è stata quella dell'elezione di Javier Milei che è questo signore che eh che ehm ha in mano una motosega ehm eh che è stato eletto nel dicembre o meglio nelle elezioni tra novembre tra ottobre e novembre del duemilaventitré si è insediato nel dicembre del duemilaventitré come il nuovo presidente d'Argentina è il candidato dell'estrema destra ultraliberista e promette lo smantellamento non solo della pubblica amministrazione ma di tutto lo Stato argentino con l'abolizione di importanti ministeri come quello della sanità e quello dell'istruzione lo smantellamento della banca centrale d'Argentina la completa dollarizzazione della dello Stato con l'adozione del dollaro argentino al posto del peso eh e tutto questo per cercare di far fronte alla situazione tremenda di difficoltà economica finanziaria ma anche sociale più della metà della popolazione argentina vive al di sotto della soglia di povertà eh che attualmente lo Stato argentino sta attraversando eh data la eh la la cura drastica che Milei minaccia e promette ehm eh insomma i commentatori internazionali sono rimasti ehm un po' un po' basiti e ehm e si ehm e c'è la paura che la cura sia peggiore della malattia adesso è molto poco tempo che Milei si è insediato la presidenza poco più di un mese quindi eh molto presto per fare dei bilanci delle valutazioni eh vedremo eh che cosa succede però al di là di quella che è la ehm la cronaca della politica internazionale il senso di questi interventi era quello di non dico di provare a capire eh perché eh è un compito troppo grande per le mie risorse ma eh almeno avere degli spunti di 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 interpretazione di questo tipo di situazione di come si sia arrivati in Argentina a una situazione di questo tipo ripercorrendo la storia dell'Argentina attraverso la lettura di questi due libri ehm nel mio primo video abbiamo provato a esporre quelli che eh Zanatta e De Giuseppe Labella indicano eh come eh i i peccati originali della economia argentina della struttura dello Stato argentino che sostanzialmente si riconducono in primo luogo all'origine coloniale dello Stato e alla formazione di una struttura economica tipicamente postcoloniale ossia di dipendenza eh dalle esportazioni del settore primario beni agricoli beni minerari a cui si aggiungerà l'esportazione tra la fine dell'ottocento e poi per tutto il novecento della carne bovina di allevamento che è il principale bene eh del settore primario esportato nel novecento dell'Argentina nei confronti di un partner europeo che prima era la Spagna imperiale e poi lentamente sostituita gradatamente costituita sostituita nel corso dell'ottocento dalla Gran Bretagna e questa situazione ha avuto dei pregi e dei difetti. I pregi sono stati che eh nessun altro paese come l'Argentina si è dimostrato così forte nei in questo modello nell'esportazione di beni agricoli ehm nei confronti eh dell'Occidente europeo e questo ha portato all'Argentina un enorme benessere economico e finanziario ehm e ha creato eh ricchezza in Argentina e ha fatto sì che l'Argentina diventasse all'inizio del novecento un paese molto florido dalle prospettive economiche ehm molto ottimistiche ehm si riversarono in Argentina ehm milioni di eh milioni no eh migliaia di eh immigrati soprattutto dall'Europa e soprattutto dall'Italia. Ci fu un enorme incremento demografico, si crearono grandissime città soprattutto i porti e soprattutto Buenos Aires che all'inizio del novecento era già una megalopoli. Ehm come sempre succede il benessere economico ehm ebbe come contraltare la crescita delle istituzioni, la crescita virtuosa delle istituzioni statali. L'Argentina tra il millenovecentodieci e il millenovecentotrenta che è stato un po' il periodo migliore dal punto di vista delle istituzioni politiche ebbe un governo ehm sostanzialmente con a capo Irigogen direttamente o per interposta persona in cui eh sembrava che lo Stato avesse imboccato la via dello sviluppo eh delle stabile delle istituzioni moderne, democratiche e parlamentari. Eh l'aspetto negativo è che questa questo modello economico comportò negativamente il mancato sviluppo del mercato interno, il mancato o l'asfittico sviluppo del settore secondario industriale. Quindi un uno sviluppo molto forte, molto ricco ma simmetrico. Primo peccato originale della storia economica del sistema argentino. Nel millenovecentotrenta poi questo sistema in effetti si bloccò per via della eh crisi della grande depressione ehm partita dagli Stati Uniti e poi estesa anche all'Europa che bloccò i flussi, bloccò o ridusse per un periodo in in realtà non così lungo ma comunque in modo significativo i flussi del commercio internazionale. Allora si imboccò l'Argentina. Per un verso imboccò la via dello sviluppo eh nazionalistico con l'idea di far crescere di importanza eh l'intervento diretto dello Stato dell'economia. Per altra via sul piano politico poiché sempre la politica è il contraltare dell'economia il il governo democratico eh di eh rappresentato eh da Irigozhen diciamo come persona di riferimento venne spazzato via e iniziò il triste periodo dei 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 governi militari autocratici, dei golpi, dei colpi di Stato militare. Ehm e si arriva in questo modo il periodo questo periodo degli anni diciamo dal mil novecentotrenta all'inizio degli anni quaranta è chiamata la decada infame in Argentina perché si bloccò tutto. Ehm si arriva arriviamo in in così in rapidissima sintesi al momento in cui compare sulla scena politica dell'Argentina quello che è l'uomo di riferimento della storia argentina del novecento Juan Domingo Perón che ehm compare per la prima volta nel millenovecentoquaranta tre in veste di sottosegretario del ministro della guerra dell'allora ministro della guerra e poi successivamente in un successivo colpo di Stato militare in militare in questo periodo si facevano dei colpi di Stato uno addosso all'altro ehm in un nuovo governo del millenovecentoquarantaquattro tra i promotori del colpo di Stato ehm tra gli altri ufficiali erano generali che forse era colonnello però che era eh che aveva promosso il colpo di Stato e ehm sostanzialmente ehm Perón assume la carica di ministro del lavoro e ehm diciamo eh si costruisce una carriera politica eh con un'azione politica eh rivolta prevalentemente ai lavoratori eh ai proletari eh urbani dell'Argentina quindi si costruisce un larghissimo seguito ehm popolare ehm tra i lavoratori eh delle grandi città e anche ehm ehm e anche dai dei dei sindacati c'è un ampio sostegno anche da parte sindacale di Perón Perón eh uomo politico molto abile in poco tempo eh si eh costruisce una personalità eh carismatica dal punto di vista politico e si pone come gradatamente come leader sempre meno discusso della politica argentina. Nel millenovecentoquarantasei ci sono delle elezioni e il eh eh Perón il partito il neocostituito partito di Perón eh con una un effetto di sorpresa è uno shock molto forte per la parte dei conservatori ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Di lì in poi Perón governerà eh per un decennio fino al millenovecentocinquantacinque dove il suo governo eh verrà spassato via da un altro polpo di Stato militare, Perón verrà esiliato e questo sostanzialmente per il fallimento della sua politica economica. Allora cercando di eh sintetizzare che non è cosa molto semplice quali eh furono le caratteristiche politiche economiche del dei governi di Perón. Innanzitutto eh i suoi governi ebbero una fortissima impronta sociale eh che sarebbe eh ingiusto e eh frettoloso liquidare semplicemente come come demagogica come spesso accade. È vero che quello di Perón fu un governo autoritario, fu un governo forte che sostanzialmente spazzo via tutte le istituzioni statali e Perón un po' come sul modello di Mussolini eh si pose come il tramite diretto tra il potere e il popolo. Eh in in questo quadro eh porto avanti una politica eh in parte demagogica e populista ma in effetti fortemente redistributiva eh di reddito eh nei confronti della classe dei lavoratori con un fortissimo incremento dei servizi eh erogati direttamente dallo Stato in termini di assistenza eh scolastica, sanitaria, creazione di di costruzioni, case, insomma ci fu un effettivo e forte effetto redistributivo della ricchezza nel periodo ehm peronista a favore delle classi lavoratrici. Dall'altra parte urbane, dall'altra parte però si poneva come elemento di garanzia nei confronti dell'esuberanza politica della ehm dell'importante e e non dico solo nascente ma insomma eh cresceva poversivamente perché l'Argentina era un paese ricchissimo in quel periodo. Ehm perché era un paese ricchissimo? Eh perché eh il mondo veniva fuori eh a metà degli anni quaranta dalla crisi dalla fine della seconda guerra mondiale. L'Europa ma comunque tutto il mondo si era fortemente impoverito, l'Argentina era forte della disponibilità di prodotti agricoli e della disponibilità fortissima di carni. Eh e quindi ehm le esportazioni dell'Argentina verso il resto del mondo occidentale funzionarono benissimo. Lo Stato ehm che già era eh ricco per il periodo precedente, le casse dello Stato si arricchirono ulteriormente le l'economia argentina ehm eh visse un periodo mh di grande prosperità. Sulla base di questa prosperità finanziaria eh di questa disponibilità eh per una politica fiscale espansiva eh esattamente quello che fece però per cui promosso una politica sociale molto eh politica sociale molto forte che eh gli valse un enorme consenso popolare eh lui capitalizzò politicamente questo consenso non solo lui ma anche eh la moglie eh la la famosissima eh Eva Peron e Vita Peron che non fu solo la post lady ma ebbe anche un ruolo importante nel nel nell'ambito di questa politica e ehm sostanzialmente si creò eh una eh in Argentina ehm una una pubblica amministrazione eh molto grande eh molto forte e e molto costosa con degli interventi diretti nei confronti della popolazione che aumentarono sicuramente i livelli di vita aumentarono enormemente i livelli di spesa. In un primo periodo ehm il bilancio statale poté permettersi queste spese importanti la creazione di un vero sistema di welfare eh state in Argentina con eh del un'incidenza delle spese per il welfare sul totale del prodotto interno lordo tra e eh tra i più alti al mondo. ehm dopodiché però la 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 situazione iniziò a cambiare eh anche perché col piano Marshall ci furono importanti investimenti finanziari degli Stati Uniti e nei confronti dell'Europa e eh gradatamente diciamo eh il peso di tutta questa politica fiscale espansiva e redistributiva eh cominciò a pesare sempre di più fino a rivelarsi insostenibile. Il bilancio dello Stato iniziò ad andare in deficit e eh la la politica del governo peronista rispose con quello che è la risposta classica storicamente in questi casi la creazione di nuova di nuova moneta per finanziare il bilancio dello Stato e quindi alla diciamo al problema del 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 deficit del bilancio statale si aggiunse il problema dell'inflazione una fortissima inflazione. Eh la politica eh sul piano industriale eh ci furono anche importanti interventi del governo di Peron. Il clima era quello ereditato ancora dalla crisi della grande depressione. Il la moda politica era quella del nazionalismo anche in questo caso Peron si eh ispirava un po' a quello che era stato il modello mussoliniano degli attenti eh diretto a una politica di tipo autarchico dal punto di vista economico e però fece degli investimenti importantissimi e molto dispendiosi soprattutto nel campo delle nazionalizzazioni eh nazionalizzando e quindi acquistando il riacquistando sostanzialmente per quello che era successo in passato il sistema ferroviario argentino che era di proprietà dello Stato britannico riacquistando da una proprietà americana quello che era il sistema postale creando una compagnia di bandiera eh aerea e potenziando molto molto la marina mercantile interventi dispendiosissimi che gravarono sul bilancio dello Stato enormemente. Cercò anche di avviare una politica eh industriale che tuttavia non decollo mai ehm mirata soprattutto alla creazione di un comparto manifatturiero leggero. Ma la sostanza dell'eredità che lasciò alla fine eh il periodo peronista che terminò proprio per le sue eh difficoltà che si rivelavano insormontabili l'eredità però fece i governi però fecero eh un eh l'errore più importante fu quello di sottovalutare il settore primario che fino a quel punto aveva costituito il motore dello sviluppo economico argentino che venne messo in secondo piano. Eh l'eredità politica che lasciarono i governi di Perón fu quella dell'enorme deficit pubblico e della crescente inflazione. Eh per questo motivo il suo governo andò in crisi nel millenovecentocinquantacinque Cioè ci fu un colpo ehm di stato eh militare eh e eh però fu mandato in esilio, andò in esilio in Spagna. Pur rimanendo pur nell'assenza una personalità molto importante e determinante nell'ambito della eh del corso della politica argentina e pur rimanendo il suo partito pur messo ai margini della vita politica dopo il colpo di stato militare ehm di di fatto il il partito che raccoglieva la maggior parte dei consensi del popolo argentino. Si aprì un un nuovo periodo eh dal millenovecentocinquantacinque in poi con un colpo di stato che si proclamò rivoluzione chiamandosi rivoluzione libertadora ehm e che eh mirò un'inversione di rotta della politica economica che ehm lasciò il filone nazionalista e puntò a una apertura al 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 commercio internazionale e soprattutto alla ehm all'ingresso di eh di eh dei capitali eh nelle porte di capitali esteri no? Che in cui si vedeva un po' il nuovo motore di quello che poteva essere lo sviluppo. Ehm tuttavia il fatto di basare la eh le i programmi di sviluppo dello stato sulla flusso di capitali estere rendeva era evidentemente un elemento di debolezza del progetto del progetto di politica economica che però almeno inizialmente fece degli investimenti importanti soprattutto in ambito industriale non più nel settore ehm della manifattura leggera che era quello su cui aveva puntato però e che non era mai decollato ma sulla eh sull'industria di base e soprattutto in campo petrolifero si furono degli eh interventi importanti. La figura politica di riferimento ehm che dominò la scena eh politica tra la fine degli anni cinque, la seconda metà degli anni cinquanta e inizio degli anni sessanta fu frondissi. Ehm dopodiché negli anni sessanta dall'inizio degli anni sessanta in poi incominciò a crescere la contrapposizione politica tra una parte eh conservatrice della politica e della società argentina e una parte invece ehm diciamo che era rimasta peronista il il la la parte peronista ehm eh prese il nome anche di parte giustizialista che era un po' il partito giustizialista era il nome del partito peronista. la contrapposizione tra ehm eh conservatori sostanzialmente militari e peronisti diciamo fu un po' la caratteristica della vita politica degli anni degli anni sessanta con un incremento anche del tasso di contrapposizione eh violenta ehm fu un periodo che da un punto di vista ehm economico segnò una situazione di sostanziale stabilità che vide però una crescita progressiva del gradiente di violenza della della dell'interno della vita politica. Ehm finché si arrivò alla ehm mille eh novecento e eh settantatré ehm con eh delle elezioni in cui il partito peronista riammesso alla alla lotta politica ehm uscì vincitore e quindi si riproponeva un periodo eh partito peronista che di fatto a quel punto aveva di peronista il nome. Le cose erano sostanzialmente cambiate. Diciamo che si poneva eh come un interlocutore diciamo di 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 centrosinistra nella vita politica argentina anche se i termini destra e sinistra in Argentina non sono esattamente sinonimi anzi sono molto diversi rispetto all'uso che ne facciamo noi in Europa. Tra le prime ehm i primi provvedimenti del nuovo governo peronista eh si fu quello di far rientrare eh peron in Argentina quindi di di toglierlo dall'esilio però ormai l'ottantenne rientrò in Argentina eh l'unica cosa rilevante che fece fu morire ehm e lasciare sostanzialmente il eh il la dirigenza del partito e quindi del paese alla seconda moglie ehm Isabelita eh che però sostanzialmente si dimostrò politicamente incapace in una stagione di crescente eh violenza già al ritorno di Peron già il nel momento in cui Peron era andato via ci furono ci fu ci furono degli scontri di piazza molto forti con con molti morti ma addirittura quando Peron tornò nel millenovecentosettantatré ci furono degli scontri fortissimi e in questo periodo aumentò il livello della violenza nella contrapposizione politica tra sostanzialmente tra destra e conservatori fino ad arrivare a dei livelli altissimi eh una parte della popolazione era favorevole a un ritorno dei militari ritorno dei militari che ci fu col colpe il colpo di Stato del millenovecentosettantasei eh che aprì il peggiore politico il peggiore periodo della politica argentina eh la dittatura del inizialmente per lungo periodo del generale eh che durò ehm dal millenovecentosettantasei e poi successivamente con alla fine con altri eh l'ultimo credo generale eh dittatore Fugualtieri eh durò fino al millenovecentosettantatré ehm il primo e più importante obiettivo della dittatura della terribile dittatura militare dell'argentina fu l'annientamento dell'altra parte sociale ehm con quella eh che è passata la storia come la guerra sporca che eh di fatto fece più di trentamila morti eh ci fu sostanzialmente il genocidio l'annientamento di eh una generazione politica di argentini soprattutto erano i cui corpi sparirono sono buttati nel rio della Plata o nell'oceano Atlantico. Ehm il governo argentino si macchiò dei più eh delle più tremende violazioni dei diritti umani eh sostenuto finanziariamente bisogna dirlo dall'amministrazione statunitense, dai prestiti degli Stati Uniti, prestiti ehm sì prestiti anche ehm che passavano anche attraverso istituzioni eh sovranazionali. Eh l'amministrazione, l'amministrazione che sostenne ehm il corpo di Stato militare fu quella eh repubblicana di eh Kissinger e Gerald Ford poi non smentita però nella sostanza dalla successiva amministrazione democratica di G. ehm il dal sotto il profilo economico ehm i governi della eh dittatura militare furono un disastro ehm per sostanzialmente perché fecero scoppiare il deficit ereditato dall'età peronista del bilancio dello Stato e ehm e quindi si creò una eh forte situazione di eh squilibrio finanziario ed economico ehm incentrato soprattutto sul forte disavanzo del bilancio dello Stato ehm forte ehm inflazione, forte svalutazione del peso, disoccupazione e eh per la somma di questi motivi economici e finanziari di crisi ehm fu questo che è la mutata soprattutto anche situazioni della politica internazionale fu questo non motivi puramente politici che determinarono la fine della dittatura in Argentina. Ehm la dittatura in Argentina finisce nel 1983 il quindi il il periodo delle dittature militari iniziato ehm nel 1930 arriva fino al 1983 con in mezzo l'episodio di Peron e dal 1983 fino ad oggi c'è una eh una un periodo di eh quarant'anni eh di eh governi eh democratici. Il primo fu il governo di Alfonsin, un ehm un esponente del partito radicale eh quindi sostanzialmente centrista e fu la prima volta che in in un confronto elettorale il partito giustizialista, peronista, perse le elezioni e fu un governo molto lungo ehm che sopravvisse ai politicamente ai tentativi dei militari di riprendere il potere con dei colpi di Stato. Eh fu un governo che eh si confrontò con quelle che ormai erano eh le caratteristiche eh genetiche della eh economia e della finanza dello Stato argentino. Un fortissimo debito pubblico determinato più che altro dalla eh politica eh assistenziale peronista, dalla creazione della di una una amministrazione pubblica molto costosa sia in termini di eh costi diretti quindi di 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 stipendi eh sia in termini di costo dei servizi erogati ehm e eh una un 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 crescente eh squilibrio in termini eh monetari con la svalutazione della moneta un un crescente una crescente inflazione. Diciamo sostanzialmente eh tutte le caratteristiche eh di base della crisi economica dell'argentina di oggi a cui però si aggiunsero delle degli altri capitoli molto importanti ehm e che fu eh che furono sostanzialmente determinati dalla eh crescente dipendenza dell'Argentina ehm rispetto alle crisi finanziarie dei mercati internazionali. Ormai l'Argentina con i nuovi governi democratici imboccarono la via della eh dell'inserimento nella comunità economica e finanziaria occidentale. Stato indebitato che aveva bisogno del sostegno delle eh finanze internazionali per sopravvivere e ehm sostanzialmente eh le le diversi crisi che ehm eh interessarono i mercati finanziari internazionali. La crisi messicana, la crisi del novantasei, novantasette della crisi asiatica e che portavano delle perturbazioni molto forti sui mercati finanziari internazionali ricadevano in primo luogo su quei paesi che più erano dipendenti dai flussi eh finanziari eh che eh arrivavano dalla finanza internazionale. E ehm il sistema argentino che già dal punto di vista dei fondamentali economici eh pativa eh i problemi che abbiamo detto prima in primo luogo il peso delle finanze dello Stato e poi comunque eh tutti gli squilibri che eh dal deficit statale eh derivavano la svalutazione del peso, l'inflazione eh e progressivamente il la crescita anche della disoccupazione ehm il sistema argentino sempre più dipendente dagli equilibri finanziari internazionali via via andò in crisi. Ehm eh diciamo eh dal dopo Alfonsin quindi dagli anni novanta fino adesso si sono si è succeduto un lungo periodo di ehm dominio politico del partito peronista che ormai peronista ha solo più di perona solo più il nome. Eh negli anni novanta ci fu la lunga presidenza di Menem. Ehm dopodiché eh ci fu un periodo di transizione con Duarte sul volgere del millennio e poi ci fu l'età di Kirchner dal duemila dai dai primi eh anni del gli anni zero del duemila prima con con Nestor Kirchner e poi con la moglie ehm eh Cristina. Eh quindi un predominio peronista con una classe politica ehm accusata probabilmente a ragione ehm di un elevato tasso di corruzione e anche di connivenze con organizzazioni eh mafiose. Ehm è sostanzialmente incapace di adottare una politica che sotto il profilo economico eh segnasse un'inversione della linea di tendenza ormai eh quarantennale cinquantennale di quelli che sono i grossi problemi dell'Argentina. quindi una una situazione che dal punto di vista dei fondamentali economici progressivamente peggiorò. Non fosse che la crescente esposizione del sistema argentino alle crisi ripetute della finanza internazionale provocò dei disastri dei disastri enormi. Il più importante è quello del duemila uno la dichiarazione di insolvenza del debito sovrano. Ricordo che sul volgere del tra fine del novecento e inizio degli anni zero del duemila le banche italiane vendevano le vecchiette ai risparmiatori le obbligazioni argentine perché in effetti ehm presentavano un tasso di rendimento decisamente più elevato rispetto a quelli dei titoli di Stato. Sì grazie e infatti nel duemila uno lo Stato argentino dichiara l'insolvenza ehm e i creditori eh che erano anche creditori ehm come i nostri risparmiatori privati ehm eh rimangono eh col col debito insoluto eh nei dieci anni successivi poi ci saranno una serie di tentativi in parte riusciti ehm di eh ristrutturazione di questo debito in qualche modo per ricreare e e il compito fu impossibile una sorta di verginità finanziaria da presentare ai mercati internazionali cosa che non riuscì e ehm e insomma la situazione eh sostanzialmente la situazione politica ed economica fu questa ormai una serie di problemi ehm incancreniti dal punto di vista economico e finanziario del sistema paese il 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 disastro dei rapporti con la finanza internazionale una classe politica poi dopo Cristina Kirchner ci fu un cambiamento per cui il l'ultimo importante presidente in effetti fu un presidente è stato un presidente di destra ehm dopo Cristina Kirchner Maurizio Macri ehm ehm però sostanzialmente le cose non cambiarono eh fino ad arrivare all'epoca covid dove la situazione è precipitata ehm tutti i fondamentali delle dell'economia ehm si sono inabissati ehm inflazione a tre cifre annuale a tre cifre ehm enorme disoccupazione enorme debito pubblico ehm quote crescenti di popolazione al di che vivono in Argentina al di sotto della soglia della povertà situazione disperata ehm che eh ha detta dei commentatori internazionali solo un miracolo eh può cambiare il tema è se eh Javier Milei è loco è in grado di fare questo miracolo eh la storia lo vedrà. Grazie a tutti eh a tutti e a tutti e a soprattutto a quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino in fondo di questo di questa mia prolusione. A presto.